È stata ospite venerdì e sabato al Carion di Trieste Vittoria Vinci, una persona molto semplice, difficilmente troviamo in questo ambiente, proprio persona così come mamma t'ha fatto, possiamo definirla così. Senti, persona che però nasce da tutto un altro mondo, da quello dei concorsi di bellezza. Eh sì, è iniziato diversi anni fa, avevo iniziato con qualche concorso di bellezza nazionale e internazionale, avevo vinto qualche fascia sia Miss Padania che Miss Mondo, Miss International, ero arrivata in finale nazionale nelle ultime 12. Ma mi occupavo, io nel frattempo comunque prima studiavo, facevo l'università, poi facevo lavori come immagine, come fotomodella, come lavoravo come hostess per gli eventi, MotoGP, Motor Show e via dicendo. Avevo avuto una convivenza, ho avuto una convivenza da molto giovane, finita la convivenza un po' ero ritornata in Romagna, per fortuna, perché io sono romagnola. E la convivenza l'avevo avuta a distanza, comunque in un altro, a Bologna, quindi era un pochino più lontano. E in quel periodo una ragazza che faceva l'università Rimini con me, però un'altra facoltà, aveva iniziato a fare qualche serata in un locale, nel Vercellese, dove era richiesto di fare un minimo spettacolo per qualsiasi ragazza che andava là a lavorare. E ho iniziato così, facendo un weekend, portando uno spettacolino, perché lì era uno spettacolino molto piccolo, diciamo, molto striminzito, però avevo avuto un sacco di successo, le persone arrivavano ogni volta, ogni settimana, perché io cambiavo spettacolo ogni settimana. Da lì sono stata notata, ho avuto contatti con vari manager che comunque mi volevano nella loro agenzia. Improvvisamente ho fatto un servizio fotografico, con un fotografo comunque che è nel settore, famoso, e mi sono trovata subito nei locali top d'Italia e non avevo, diciamo, nessuna esperienza. Ah vabbè, avevo fatto comunque burlesque, dei corsi burlesque negli anni precedenti, però è andata così, insomma. Senti Vittoria, in un mondo televisivo dove ormai stiamo, dove sembra che chi più urla alla fin fine è quello che ha più successo, è quello che ha più, chi si sa più imporre, ecco, quanto ha aiutato probabilmente anche la tua famiglia proprio a crescerti così semplice e spontanea, stando con i piedi per terra? Sì, no, questo è importantissimo, nel senso, questo è un mondo che a me piace, nel quale comunque mi ci vedo, altrimenti non lo farei, una cosa che fare di spettacoli mi appassiona, però comunque io ho finito il weekend, torno alla mia vita quotidiana, alla mia vita familiare, semplice, perché comunque amo anche la semplicità. Ho bisogno di entrambe per comunque trovare il mio equilibrio. Senti, questo è ormai il terzo anno, mi hanno detto che a te potrebbe essere ormai diventata la madrina quella che fa l'opening delle stagioni del Carillon, in un locale molto particolare in realtà, perché il Carillon è ancora uno dei pochi vecchi stili. Sì, infatti è bellissimo perché ha un locale storico, diciamo, no? E ha questo fascino molto molto particolare di night, di una volta, però ricercato e in un ambiente molto molto raffinato, e comunque le persone che lo gestiscono sono ben capaci, quindi la persona si trova sicuramente a suo agio. E quanto tempo perdi a prepararti i capelli? Pochissimo. Ho messo, guarda, 20 minuti, oggi ho impiegato fra trucco, parrucco, doccia, tutto, quindi sono stata velocissima, infatti non sono tanto truccata, ma non stavo tanto bene, una settimana che sono influenzata, è andata così. Mi trovate un po' fuori forma questo weekend. Grazie.